bene amici vi ricordate che qualche tempo fa vi avevo promesso questa prova ovvero l'HTC M8 di mia moglie lei ce l'ha da circa due anni, non l'ha mai formatato, non ci ha mai fatto niente, lo spegne forse una volta al mese e quindi vedremo come è ridotto, come è sopravvissuto, si è sopravvissuto un telefono dopo due anni di uso intenso allora eccolo qua, prima di tutto la Dot View Cover, beh quella bene non benissimo, guardate si è praticamente aperta a metà quindi la togliamo, spengo il telefono cliccando il pulsante sopra, si quanto era scomodo il pulsante sopra però quanto era bello questo M8, raccoglieva l'erità di un M7 che è stato per me uno dei migliori Android fatti in quegli anni una delle pietre miliardi diciamo insieme a S2 e a pochi altri Android, ma andiamo a vedere l'hardware dietro ha preso una botta, vedete, quindi il metallo qua è leggermente piegato, per il resto voglio dire è tenuto molto bene anche perché è sempre stato praticamente nella sua cover, invece devo dire la camera posteriore, vi ricordo dual cam da 4 megapixel si è opacizzato il vetrino, quindi ultimamente le foto venivano un po' opache perché pulisci oggi, pulisci domani probabilmente il rivestimento superficiale si è un po' rovinato, ma vediamo, se andiamo a centro, vi ricordo che era un telefono che aveva lo Snapdragon 801, l'Adreno 330, 32 GB di memoria RAM, no di memoria, scusate utente, 2 GB di memoria RAM ma vediamo il solito tritico delle impostazioni, allora prima di tutto vi faccio vedere qua la pagina con tutte le varie news devo un po' raccapezzarmici perché è il telefono di mia moglie, non so dove tiene le applicazioni, giuro non l'ho né riavviato né messo ho solamente cambiato i miei account, ovviamente per questioni di privacy, allora iniziamo ad andare subito nel gestore delle pagine si è aperto in maniera fulminea, voglio dire gira ancora veramente veloce, guardate sì vabbè a volte ha qualche micro lag però paragonabile assolutamente a un medio di gamma, un medio alto di gamma di oggi possiamo scrivere, proviamo a scrivere qualcosa, clicchiamo qua su pubblica il display tra l'altro era un full HD, IPS, mi sembra ancora tutt'oggi una buona unità riesco a scrivere abbastanza bene tastiera di HTC che io ho sempre un po' criticato perché tra tastiera, tasti sul display, cornice HTC, boom sound occupavano un po' troppo spazio del display rispetto all'ottimizzazione generale che non c'era per esempio anche, vedete nella griglia delle applicazioni, non era gestita proprio benissimo però come fluidità lo vedete, ragazzi gira ancora benissimo proviamo a aprire Twitter, vediamo in quanto tempo si apre e se è fluido, sì gira bene, guardate tra l'altro voglio andare a vedere le fotografie, sì mia moglie mi ha dato l'autorizzazione entriamo nella galleria, voi le vedrete offuscate perché ci sono fotografie personali ma ci sono sopra su questo telefono 4152 foto, io entro nel rullino tutte le foto e ragazzi vai, a parte che qualcuna ha quell'effetto patina dovuto al vetrino rovinato ma guardate il telefono è veramente molto molto fluido, nessun tipo di problema anche se utilizziamo il multitasking, andiamo a vedere in questi anni come si è evoluto il software, il sistema operativo perché è partito se non sbaglio con la 4.4 può essere, non mi ricordo se era già la 5 quando era uscito e gli aggiornamenti software siamo arrivati alla versione 6.0 con la Sense 7.0 e probabilmente ovviamente morirà con questa versione software comunque ci sono stati degli aggiornamenti da parte di HTC in questo senso nel corso del tempo sono stati aggiunti i temi infatti come vedete sia lo sfondo sia le suonerie che adesso, meglio che nessuno mi chiami perché le suonerie che mette mia moglie sono veramente inascoltabili ma devo dire che è un telefono che si è difeso benissimo quasi si è difeso meglio nel software che nell'hardware l'avete visto è molto veloce, molto reattivo, ancora tranquillamente usabile proviamo a aprire Real Racing e tra l'altro ho fatto una piccola ricerca sul mercato dell'usato prima di girare questa recensione si trovano tra i 150 e i 180 euro gli M8 usati e secondo me se trovate un M8 con un tenuto bene adesso io abbassa un attimino il volume, facciamo la calibrazione potrebbe ancora oggi avere un senso acquistarlo perché? perché come vedete la Sense ecco avete sentito il suono di notifica, grandi Minions la Sense riesce a mantenersi ancora fluida nonostante questo telefono, ripeto, non sia mai stato formatato in due anni a questa parte e penso che sia acceso almeno da un mese questo telefono vedete Real Racing comunque è ancora giocabile, è fluido l'ho scaricato velocemente quindi anche il wifi funziona bene insomma era un top di gamma tre generazioni fa perché HTC 10, HTC 9, HTC 8 quindi sì, tre generazioni fa che si difende ancora benissimo e secondo me questo video ci deve far veramente pensare su ma c'è stata veramente evoluzione in questi tre anni? un saluto da andrea galeazzi.com ah comunque HTC è una delle poche case che fa telefoni così affidabile, quando parlo di affidabilità di HTC a questo mi riferisco altri smartphone dopo tre anni sarebbero inutilizzabili ciao